Grazie mille per essere venuti alla nostra mostra itinerante in Poli del Silenzio. Oggi siamo a Somma Lombardo, al centro commerciale gigante, e vi chiedo di venire in tanti a visitare questa mostra che è contro l'omertà complici della violenza. Non vedo, non sento, non parlo, non si fa, bisogna denunciare, parlare e farsi aiutare e aiutare gli altri.